Presentata questa mattina a Palazzo Adorno, la terza edizione della Marathon del Salento. La manifestazione sportiva, che avrà come protagonisti circa mille biker provenienti da tutta Italia, prenderà il via il 28 marzo con l'apertura delle segreterie e delle aree espositive e si snoderà per tre giorni. Il tracciato si svilupperà all'interno del Parco Regionale Litorale di Ugento e delle sue marine. Obiettivo dell'evento, valorizzare il patrimonio ambientale attraverso lo sport, facendo conoscere le risorse e le peculiarità di ogni singolo parco. L'evento è importantissimo, che si ripete questa volta nuovamente nel Parco Litorale di Ugento. È un evento che tende a promuovere un turismo ambientale sportivo, quindi per creare un altro modo per fare turismo ambientale, chiaramente. Ma in modo specifico è un evento che serve per far conoscere e far apprezzare quelle che sono le bellezze dei nostri parchi salentini, attraverso lo sport, lo sport che significa inclusione, lo sport che significa agonismo, lo sport che significa comunque vivere un momento straordinario, il territorio, attraverso il concetto che da anni porta avanti dello slow tourism. Chiaramente questo evento dei bikers, circa mille bikers presenti nel nostro territorio, in due giornate sicuramente sarà un'opportunità per un rilancio del prodotto naturalistico attraverso lo sport e quindi per incrementare e destagionalizzare il turismo nel Salento.